Una preghiera silenziosa, prostrato dinanzi all'altare. Papa Francesco ha inaugurato la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Vaticana, pregando per quanti ancora oggi sono perseguitati barbaramente dalla furia cieca dell'uomo e per quanti ancora oggi si lavano le mani davanti alle ingiustizie. In qualche modo, infatti, ha ricordato nel corso della predica, padre Raniero canta la messa, il processo di Gesù di fronte a Pilato si reitera anche ai nostri giorni, con personaggi diversi ma con le stesse modalità. I cristiani non sono certamente le sole vittime della violenza omicida che c'è nel mondo, ha detto il predicatore della Casa Pontificia, ma non si può ignorare che in molti paesi essi sono le vittime designate e più frequenti. Impossibile non pensare ai 147 cristiani trucidati dalla furia jihadista degli estremisti somali in un campus universitario del Kenya o ai 21 cristiani copti uccisi dall'ISIS in Libia il 22 febbraio scorso. Chi ha a cuore le sorti della propria religione non può rimanere indifferente di fronte a tutto ciò, ha insistito il cappuccino, precisando che in questo modo rischiamo di essere tutti istituzioni e persone del mondo occidentale dei pilati che si lavano le mani. Di qui l'invito a pensare alle sofferenze dei singoli, delle persone con un nome e un'identità precise, alle torture decise a sangue freddo e inflitte volontariamente, e a ricordare che Cristo ha vinto il mondo vincendo il male del mondo. Sulla croce il figlio di Dio ha infatti condannato la violenza, opponendo ad essa non semplicemente la non violenza, ma di più il perdono, l'amitezza e l'amore.